Comunque ragazzi ve lo giuro io quando ho sentito il discorso dell'extana mi volevo tirare fuori dalle orbite i bulbi oculari Mamma mia ragazzi cioè ve lo giuro Ma poi ho visto pure che ci ha fatto un video lollo mi sa Lollomanguste Lollomanguste Oh lollomanguste Stiamo a vedere che sono curioso che ha detto Lollomanguste Non so cosa sia più triste il fatto che di nuovo sette ragazzini hanno rovinato la vita di una ragazzina Oppure che degli streamer dicono di avere una vita di merda Ciao Alex sono uno streamer e mi piacerebbe molto rispondere a questo video che hai pubblicato l'altro giorno Anche perché mi è stato segnalato tante volte durante Perché cazzo c'entra prendere come esempio uno stupro di sette ragazzi su una ragazza Con gli streamer che dicono di avere una Ma è tutto completamente scollegato cioè Voglio fare subito una piccola premessa prima di passare a cose un pochettino più importanti Sono d'accordo con te che se uno streamer si lamenta del suo lavoro Come ogni qualsiasi altro lavoratore addirittura dice che ha una vita di merda C'è qualcosa che non va perché a meno che stai lavorando per necessità L'ambiente in cui sei lo puoi cambiare La vita è lunga Sono tantissime opportunità di potersi riscattare in altri settori Ma questo a parte Non so cosa sia più triste il fatto che di nuovo sette ragazzini hanno rovinato la vita di una ragazzina Partendo dall'inizio del video non ho capito il paragone tra una persona che si lamenta E i sette ragazzi e la ragazzina dicendo che addirittura non sai cosa è più triste tra le due Qual è la connessione ma sorvolando Dicono di fare tanti sacrifici e tutto ma voi che c***o state dicendo Voi non sapete minimamente un c***o cosa vuol dire fare un sacrificio Passi subito ad attaccare degli streamer e a questo punto sono curioso di sapere a chi stavi facendo riferimento Dicendo che loro lamentarsi di una vita monotona e ripetitiva non è minimamente paragonabile Al sacrificio che fa ogni giorno magari un lavoratore comune che deve sfamare la sua famiglia Ma penso che questo sia un pensiero abbastanza comune E soprattutto perché proprio lo streamer Ci sono tante persone che guadagnano una barcata di soldi e si lamentano del loro lavoro Per esempio i politici che lo guadagnano costantemente ogni mese E se vai a vedere le statistiche ci sono forse 20 streamer e sto già sparando alto Che guadagnano le cifre che hai detto tu quindi uno stipendio annuale al mese Però intanto Cosa si intende per uno stipendio annuale al mese? Tipo 24.000 euro? 15-20k? All'incirca sì Fanno uno stipendio di un dipendente al mese E stipendio annuo di un dipendente Vai poi a parlare di necessità menzionando il mutuo dell'auto, il mutuo della casa Sacrificio è quando siete costretti a fare una roba E' vero io non sono costretto ad attaccare la live Però se non attacco la live come li faccio i soldi? E' un po' come il libro professionista tipo che ne so il dentista che c'ha lo studio suo Se non va al lavoro perché nessuno lo obbliga Come li fai i soldi? Eppure nessuno lo costringe vero Alex Stana? E' costretti a fare le stream o a fare le live o quel c***o Quel c***o che è però intanto una live dove avete creato un hype gigantesco Anche andando a ridicolizzare uno sport va bene Una persona che è costretta Quella che va al lavoro per mantenere la famiglia Per pagare il mutuo e per pagare la macchina Quello è un sacrificio perché sei costretto a farlo E' vero è vero non sono costretto a farlo Il libro professionista non è costretto a lavorare Però indovina un po'? Se non lavora non fa soldi E quindi allora forse un po' sei costretto anche se non hai un contratto La macchina e la casa non sono delle necessità Puoi anche metterti in affitto in un posto dove ci sono i mezzi a disposizione banalmente E poi lo stai dicendo come se anche gli streamer non dovessero pagare il mutuo O la macchina per spostarsi e magari andare a fare la spesa E come ti ho detto la maggior parte degli streamer non guadagna Oh mio dio Oh mio dio Alex Stana io ti giuro Continua dai pugni perché ragionamenti qua Che siamo visti No non bene eh E poi lo stai dicendo come se anche gli streamer non dovessero pagare il mutuo O la macchina per spostarsi e magari andare a fare la spesa E come ti ho detto la maggior parte degli streamer non guadagnano così tanto E soprattutto i guadagni non sono costanti Il sacrificio che fa uno streamer è ben diverso da un sacrificio che fa un lavoratore Non è minimamente comparabile Sono d'accordo ma ti assicuro Ma oh ragazzi porco dio però eh Cioè io mi fa impazzire questo abbassarsi e zucchiare il cazzo ai lavoratori normali Ma che vuol dire che non è minimamente paragonabile? Guarda che faccio più io di un cazzo di impiegato regionale Porco dio che sta il giorno così a grattasse le palle davanti al pc a fumare le sigarette Oh Cioè io almeno comunque sto davanti a uno schermo Lo guardo e ci faccio qualcosa Quello veramente ruba i soldi e basta la maggior parte Da ma non scherziamo Ma basta con sta retorica Eh ma noi streamer non siamo minimamente Sicuramente chi fa il muratore Ovviamente fa uno sforzo fisico mille volte più distruttivo del nostro Perché il nostro è stare seduti Che poi comunque non è manco facile stare seduti otto ore davanti a un computer a fare questo lavoro Però non è paragonabile al muratore sono d'accordo Però cosa faccio di diverso da un impiegato che fa un lavoro di scrivania d'ufficio? Cioè non capisco Non ho che fare tutti quei mesi a streamare senza nemmeno guadagnare un euro E' un discorso quello di Alexstana che va a prendere tutta l'Italia boomer E' proprio un discorso populista Tu stai facendo quel discorso Neanche ci credi in quel discorso Lo fai per prendere i consensi del popolo Per prendere i consensi dell'italiano 8 medio Che deve rompere il cazzo alla categoria streamer perché guadagna tanto Se noi guadagnassimo 2000 euro al mese Anzi 1000 euro al mese Mi sa che Alexstana ha preso troppi pugni in testa A parte quello Se il nostro lavoro pagasse 1000 euro al mese A nessuno fregherebbe un cazzo e ci darebbero tranquillamente del lavoratore normale E' un lavoro Il lavoro dell'intrattenimento E tra l'altro è un settore in cui lavori anche tu E vorrei ricordare anche a tutte le persone che stanno guardando questo video E tu alle 300.000 persone che ti seguono sulla social Vai a promuovere dei link un pochettino strani Non andrò nei dettagli Ecco ragazzi io una cosa vi voglio chiedere Ve lo dico proprio con il cuore Io li vedo tanti Vedo anche tante ragazze che mettono queste cose Ragazzi quando vedete tipo il box domanda di un tizio che A volte manco mettono in box domande E lo mettono comunque Scrivono tipo come posso fare dei soldi Come hai fatto E quello dice ma come ho fatto Ma certo ma così C'è il link Non cascateci Non premete sui link Non fate un cazzo Perché vi assicuro ragazzi Che se c'è qualcuno che impara a fare dei soldi Non lo dirà di certo a voi come farli Non lo Non sarete voi i prescelti Che premono un link Che iniziano a fare dei soldi veramente da queste cose Non ci cascate Non vi fate inculare i soldi Per favore Non andrò nei dettagli visto che le hai fatto tantissime volte Ci sarebbe da aprire un video a parte Sono più che altro semplicemente curioso di questo accanimento così random Nei confronti degli streamer Non è successo nessun tipo di avvenimento Nessuno streamer si è lamentato O se l'ha fatto magari era anche un pensiero Visto che stanno decine e decine di ore ogni giorno davanti al computer In uno degli ambienti più competitivi di sempre E tu lo sai Lo che fate voi non è né sacrificio Né difficile Non è assolutamente paragonabile a quello che fanno i lavoratori dipendenti Siamo tutti d'accordo Hai anche detto che non è Non siamo tutti d'accordo ragazzi Anche il re forse lo sa È il mio moderatore Ma pure giù Mi hanno visto crescere Perché sono i ragazzi che Ora sono moderatori Ma mi hanno seguito dai miei primi passi qui su Twitch E solo loro forse mi hanno visto Altri pochi in chat Hanno visto quanto sacrificato della mia vita Per arrivare a dei risultati Cioè ragazzi io mi svegliavo alle 7 di mattina Alle 7.50 Facevo la stream Alle 12 staccavo Dall'1 alle 2 Montavo Facevo la copertina Tutto quanto per postare il video su YouTube alle 2 Dopo il video su YouTube alle 2 Mangiavo al volo Dalle 3 di pomeriggio Alle 8-9 di sera Continuo a registrare i video e a montarli E andavo a letto A volte pure alle 3-4 di notte Perché ovviamente poi dovevo fare compagnie anche ai miei amici Dato che mi dicevano che era un pezzo di merda Che non passava mai E io dormivo 2-3 ore a notte Poi il pomeriggio a volte avevo scuola guida Andavo in after Cioè i sacrifici si fanno anche per questa cosa Cioè se tu ci credi in qualcosa di sacrifici li fai Non uscivo con i miei amici Non vedevo la mia ragazza I miei nonni erano molto malati Gli ultimi loro mesi di vita E non li andavo a trovare Perché credevo troppo nel mio lavoro Volevo sacrificare veramente tutto E sono stato un coglione Tutt'ora mi mangio le mani Facevo tutto io Tutto io da solo E vi giuro Cioè sentire un coglione Che si mette davanti a un cellulare E dice Questo lavoro non è sacrificio Dopo tutto quello che ho perso E sudato Ti giuro Mi fa venire un nervoso Ma un nervoso porco dio È difficile fare lo streamer Ma ti posso garantire Da persona che faceva il magazzinire in Svizzera E vatti ad informare Come trattano gli italiani in Svizzera Soprattutto in quel settore lì Che lo streamer è estremamente più difficile Perché devi saper stare sulla cresta dell'onda E ogni giorno ti devi impegnare Mettendo dei contenuti Facendo le live Ed essendo sempre presente Non è quello Quanto più il processo Per arrivare ad essere uno streamer Streammare ed essere uno streamer Sono due cose differenti Ok Ma che discorsi populisti Fa stana porco dio Che è il primo che guadagna soldi con i social Con i link scam Io però Allora c'è una cosa che dico sempre Il nostro lavoro È sicuramente da privilegiati Perché siamo in una condizione In cui veramente Siamo potenzialmente capaci Di guadagnare tanto Facendo molto meno di Per esempio un muratore Però Ciò non toglie del valore Comunque è quello che andiamo a fare Perché io sto odio Che vedo nei streamer Non l'ho mai visto così tanto Per i calciatori Non l'ho mai visto così tanto Per Paolo Bonolis Che fa comunque il conduttore in tv Non l'ho mai visto per altri lavori Non normali Che però sono normalizzati Solo perché nella società La tv è sempre esistita E è abituata a vederli Dici vabbè Quello è un lavoro È un lavoro Il termine lavoro È l'attività produttiva Dal punto di vista economico Giuridico sindacale L'Italia è una repubblica Demandata formata sul lavoro È intesa anche come fonte di reddito Individuale o comunitario Mi pare chiaro il discorso Cioè dal momento in cui io Creo del reddito Tramite le tasse anche per la comunità È un lavoro Sembra strano ma è un lavoro Creo dei soldi Cioè con il mio Con quello che faccio Anche più di un lavoro normale Ma ovviamente hai i tuoi tempi E soprattutto è molto gratificante Ma non hai mai la garanzia Dei soldi che porterai a casa A fine mese Questa secondo me È la strada difficile Poi come ho detto Ad inizio video Sono assolutamente d'accordo Se una persona si lamenta Probabilmente è un c***o Infatti io sono estremamente grato Del posto in cui sono E non mi lamenterò mai Nonostante alle volte Sia davvero davvero difficile Starci dietro Però ripeto Mi sembra un pochettino Un video per ottenere consensi Da un certo tipo di persone Un discorso populista Che è proprio quello che intendevo Secondo me Io vi ripeto Dal mio punto di vista Alex Tana È veramente un incoerente di merda È un ipocrita del cazzo Perché è il primo A lavorare Quei Perché non ci dici Quanto ti hanno pagato Per mettere quella storia lì Prima che fai questo discorso Da populista di merda Perché non ci dici Quanto hai preso Per quella storia Sono curioso Diccelo L'Italia È quel paese E i politici guadagnano troppo E quello guadagna troppo E quello guadagna troppo Ma nessuno fa mai un cazzo Non la possono buttare Nel culo ai politici Perché sono troppo potenti E non gli possono abbassare i stipendi Andiamocela a prendere Con un'altra categoria Di privilegiati E sono magari poi Le stesse persone A cui vai a promuovere Le cose che ho fatto vedere prima Fai il bravo Alex E ci vediamo in live Fai il bravo Non è così Di fare il bravo qui Io sono curioso Di sapere che cazzo Ha risposto Alex Tana A Gianmarco Perché Ah allora Vi dico Se c'è quella retorica Del fatto che lui fa box E ti può Tipo gonfiare di pugni Solo perché lo stai Sfidando Tra virgolette A parole Stacco il video E l'ho già capito Che persona è Ho visto che quello streamer Bruno come cazzo si chiama Mi ha percolato per il video Che ho fatto contro gli streamer Ok adesso Adesso ho due messaggi Adesso parlo io Il primo messaggio Caro Bruno Penso cinque volte Prima di percolare Una persona che non conosci Ma che hai visto solamente Il personaggio Sui social Seconda cosa Per tutti quei bambini Che mi hanno criticato E per tutta quella gente Che ha dato ragione Alli streamer Mi hanno dato contro Pensateci ai vostri genitori Che si spaccano La schiena E si sono spaccati la schiena Per darvi da mangiare Eh Ok E quindi Pure i miei genitori Io sono uno streamer Pure i miei genitori Sono spaccati la schiena Per darmi da mangiare E quindi E voi cosa fate invece Lodate sta gente Che si lamenta Il concetto è che Si lamentano Di fare questo lavoro Ma che intanto Prendono dieci volte Di più al mese E poi Questa mentalità Sai che c'è Oh con quelli come te Devo fare così Oh Alex Porco dio godo Io ti giuro Mi faccio una sega Quando guardo il mio conto In banca E penso a te E penso a quanto poco Devo fare Per guadagnare rispetto a te Mi seguo frate Godo Godo forte Te me lo prendo in mano Me lo ciuccio da solo Godo come un porco Magari sarà sbagliato Ma la mia mentalità Per me il sacrificio È andare a spaccarsi la schiena Per i soldi Non stare davanti a un telefono E quel cazzo che è Che poi magari Anche quello che faccio io I video Non è difficile Ma almeno non dico Che mi sono rotto il cazzo E se ci vediamo dal vivo Non so chi fa gli squat Ci vediamo dal vivo Ti gonfio di botte Cosa il mio sport Dice che è un'arte nobile E non dovrei usarla Fuori dal ring Non me ne frotto un cazzo Io sono Alex Town Sono un pugile Occhio a quello che dici Sono So tirare dei pugni Questo mi nobilita Come uomo Addio Non lo so Parla di lavoro e sacrificio Ma lui esattamente Che lavoro fa Sto ego bustato Dire i pugni Dire i pugni Ti ripeto È proprio stra populista Dire tipo Voi date ragione a loro Su questo argomento Ma non ci pensate Ai vostri genitori Che hanno faticato Per darvi da mangiare Non capisco Il collegamento Però va bene Non ci credo Che è veramente così Rimasto Nel senso Secondo me lo fa Proprio per essere populista Appositamente Per far parlare di sé Funziona Perché ne sto parlando Però è triste Che devi dire queste cose Per prendere i consensi Dei bumerozzi Di 50 anni Io sono sempre stato uno Che ha fatto il discorso Imparziale Nel senso che Mi sta sul cazzo Che dice che il nostro È un lavoro di merda No Il nostro è un lavoro bellissimo Lo dico da persona Che ama questo lavoro E ogni giorno Si sveglia Con la consapevolezza Che c'è tanta gente Che mi aspetta Che vado in live Vi guardo Parlo con voi Vi intrattengo È un lavoro bellissimo E sono stra felice Di farlo Però quando entra in gioco La salute mentale E quindi anche il tuo lavoro Bellissimo che ami Inizia a diventare un peso Perché inizia ad avere Delle responsabilità In quanto adulto Io non posso sentire Che si fa un discorso Che uno che sta iniziando A avere problemi mentali Dove riguarda anche il suo lavoro Non può Come dire Accusare il colpo E aprirsi con Un amico Con la chat E dire Regà Il lavoro mi sta iniziando A pesare Io ti giuro Questa roba Non la posso sentire Perché ci tengo troppo Lo sapete Quanto ci tengo Io alla salute mentale Pure quando vi faccio I discorsi Sul fatto che Dovete prendervi cura Della mente Cosa così Cioè regà Mi dispiace Non riesco proprio Cioè ogni lavoro A suo modo Ti distrugge psicologicamente Dopo un po' Se non sei manco predisposto Ma che senso ha sto video C'è per lui allora Per essere rispettato Devi fare un lavoro pesante Ma uno si può scegliere Che cazzo fare nella vita E secondo me Se lui fosse nella vostra posizione Non direbbe un cazzo Ragazzi non voglio fare cherry picking Capito Prendere la cosina Per fare un esempio enorme Però vi posso tranquillamente dire E confermare Che molti professori Che avevo io in classe Facevano molto meno Di quanto Fanno molti streamer Ve lo posso proprio Scrivere Su carta Cioè proprio Vi giuro Si grattavano E trenta le palle Gabbo ha figli E comunque si fa il culo Per procurargli una bella vita Che senso ha il suo discorso No glielo dire Noi streamer siamo sterili Non possiamo avere dei figli Per cui fare dei sacrifici Il nostro lavoro Ce lo impedisce Le nostre direttive Lo impediscono Ce lo impongono No glielo dire No glielo dire E comunque Vi ripeto L'avete visto con me Vabbè Diciamo che ho iniziato Con la depressione A 13 anni Cioè non al 2013 14 15 anni Quindi sono un caso a parte Però l'avete visto con Zano L'avete visto con tantissimi creator Quanto può diventare poi distruttivo Questo lavoro L'avete visto ora con San Giovanni Che si è deciso di prendere Un periodo di pausa Perché non sta bene mentalmente Ragazzi non è Non è facile Non tutti gli umani Riescono per tanto tempo A stare davanti a tante persone Poi sul fatto che non ci serve Lamentare Ok però Se uno accusa il colpo Cioè Oh capiamolo Ma che è sta mancanza di empatia Che c'è Cioè il 2024 Ma sembriamo tornati nel 40 Non lo so È diventato più importante Attaccare delle categorie specifiche Che provare a capire Il prossimo essere umano Che hai davanti Cioè il discorso Quando uno sta male Non si va a pensare Oh cazzo Però sta male Cioè forse dovrei Cioè capire Il discorso diventa Ma che cazzo stai male Io sto peggio C'è gente che sta peggio Cioè raga Oh empatia Oh Siamo umani Dovremmo aiutarci tra di noi Siamo tutti sulla stessa barca Che odio questa roba Della mancanza proprio Di Il capire gli altri Però poi quando non capiscono te Te la prendi Quando sei il primo a non capire gli altri Lascia like E lascia un commento Commento Se no ti arriva Un destro sotto il mento Come raga Reactions e gaming Puoi trovare di tutto Non troverai mai Un edistrutto Ciao Grazie a tutti.